All'ospedale San Francesco di Barga, all'interno dell'ex farmacia ospedaliera, dove è stata ricavata una nuova sala conferenze, si è svolto un corso di formazione organizzato dalla Will FPL e da Opes Formazione sulla gestione del paziente emodializzato. Tanti partecipanti a questa iniziativa, che sta molto a cuore alla Will FPL, che sta operando con impegno nella gestione della formazione professionale degli operatori sanitari. Con il nostro settore formativo, grazie a Opes Formazione, ci inseriamo anche nella formazione professionale, che è una cosa prettamente aziendale. Noi utilizziamo anche questo ambito formativo, grazie, ripeto, a Opes Formazione, e diamo un'integrazione a quella che è la formazione, essendo una leva strategica fondamentale per tutte le figure, ma soprattutto per gli operatori sanitari. Per quanto riguarda il corso, relatrice della parte medica è stata la dottoressa Vita Maria Agate, responsabile dell'unità operativa di dialisi della Valle del Serchio, mentre per la parte infermeristica sono intervenute Donatella Rocchiccioli e Claudia Tamagnini. A moderare la giornata è il dottor Giancarlo Tintori, direttore dell'unità operativa di medicina di Barga e Castelnuovo, che ha insistito molto sull'importanza di una gestione di un paziente, quello emodializzato, dalle molte esigenze. Come si gestisce un paziente emodializzato? Un paziente emodializzato ha molte esigenze, che vanno da quelle logistiche del trasporto, a tutto quello che comporta una terapia continuativa, che si ripete nell'arco della settimana, senza la quale, ricordo, non ci potrebbe essere sopravvivenza. Una terapia salva vita.